Per un autore mettere in scena la propria idea Spesso rimane soltanto un sogno nel cassetto Quello che manca è un'opportunità Ecco, il concorso, una commedia in cerca d'autori Permette proprio questo E negli anni lo ha fatto Cioè trasformare un'idea in uno spettacolo vero e proprio Con gli attori, la scenografia, il teatro, un palcoscenico Tutto quanto Silenzio! Oggi questo non è più possibile Perché? Perché i fondi che sostenevano il concorso non ci sono più E allora abbiamo bisogno del tuo aiuto Per continuare ad aiutare un giovane autore Per sostenere questi sogni di questi ragazzi Come? Acquista questo biglietto Credi in un autore E realizziamo insieme quella che grazie al tuo contributo Sarà anche la tua commedia Tanto l'unica cosa che devi fare è sederti qui In platea Comodo, comodo E goderti lo spettacolo Noi vogliamo continuare a produrre sogni E per farlo abbiamo bisogno di voi Grazie a tutti Grazie.